che Retro Ruflin mantiene ancora la leadership della gara e la sta mantenendo già da un po' perché ci avviamo verso la parte conclusiva davvero di questa lunga gara di quest'oggi 56 e 77 è il tempo da battere da parte del Cavaliere Elvetico leader, leader ancora indiscusso di questa classifica ancora provvisoria slipper ancora perché c'è Florence Eidl, monta Elby Solero Grazie percorso senza errori 63 e 90 rientra nel gruppo dei migliori dieci in nona posizione Florence Eidl, name play 63, 90 seconds Repubblica Domenicana rappresentata da Roger